I semafori rossi non sono Dio, io voglio far la strada che voglio io. Mettiamola così, all'automobilista che si ispira a questa PS teatrale, il cui titolo riprende un album di Gino Paoli, possiamo dare il via libera, ma ancora per qualche giorno. O meglio, al semaforo rosso ci si deve sempre fermare, solo che per ora non si rischia la multa. Una tregua semaforica dovuta al fatto che la segnaletica orizzontale è ancora in via di completamento. In compenso dell'occhio implacabile agli incroci, se ne è parlato in Consiglio Comunale. L'Aula ha respinto per un voto l'ordine del giorno presentato dal centro-sinistra per sollecitare il posizionamento del conto alla rovescia sui semafori e la manutenzione regolare delle strisce di arresto. E a proposito della direttiva ministeriale che impone il posizionamento del countdown entro due anni, il vice sindaco Santilli precisa che il comune di Pescara si sta già attivando in tal senso. Noi abbiamo recepito quella direttiva del ministero che ci dà la possibilità entro due anni di attivare il countdown. Intanto stiamo sistemando tutta la segnaletica e il dirigente non firmerà l'ordinanza fino a quando la segnaletica non sarà messa in ordine. Sappiamo quello che dobbiamo fare, la normativa che loro fanno riferimento la conosciamo bene anche noi, non è che noi veniamo dall'altro mondo. Quindi noi faremo quello che riteniamo opportuno fare, ma soprattutto bisogna capire una cosa per me importantissima. Chi passa con il rosso? Deve essere sanzionato. L'accusa di voler fare cassa? Ma non è vero. Noi abbiamo messo questi T-RED, abbiamo attivato questi T-RED, in alcuni punti strategici della città, dove la polizia municipale ci ha riferito che c'erano più incidenti. Quindi, ripetiamo, per gli imprudenti e per chi ha deciso di violare la legge a proprie spese, la pacchia sta per finire. In alternativa, possono sempre trasferirsi a Cattolica, dove già dal 2005, l'allora sindaco, i semafori li tolse tutti. È un'idea strana, balzana, ma di fatto pare che abbia ridotto gli incidenti stradali. Ci avete pensato, insomma, l'avete considerato? Sicuramente sì, e tant'è che noi ne abbiamo già eliminati tanti di semafori. Noi stiamo valutando la possibilità di eliminarli anche qualcun altro, però per fare la rotatoria c'è necessità di spazi. Bisogna avere lo spazio giusto per dare la possibilità agli automobilisti di circolare liberamente, nello stesso momento però in sicurezza.